Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui anche oggi ore 13.30 come ogni martedì per approfondire tutto quello che sta dietro, quello che vedete qui ogni giorno quindi andremo come sembra a parlare del dietro le quinte di questo canale, di questo lavoro, nelle settimane precedenti abbiamo parlato di tanti aspetti diversi siamo passati dagli iscritti agli abbonamenti, siamo passati dalle collaborazioni agli sponsor, vi ho fatto vedere come si apre la partita IVA online come è andato il primo anno di partita IVA online, vi ho fatto vedere gli ostacoli, le prime difficoltà dei primi momenti, le cose positive andando avanti con la crescita oggi vi farò un po' vedere quello che è lo specchio più o meno presente, lo specchio più o meno attuale della situazione che sta appunto dietro questo canale dico più o meno perché? Perché in realtà io vi farò vedere quello che è accaduto nel 2023 e in un lavoro come questo, a differenza di altri lavori, di altri settori anche a distanza di pochi mesi, anche a distanza appunto di un periodo abbastanza corto, le cose possono cambiare, sia in positivo sia in negativo però posso dirvi che il secondo anno di partita IVA, che appunto è stato il 2023, è stato forse il primo anno completo a 360 gradi su tutti gli aspetti, su tutti i fronti perché? Perché nel 2022 è vero che il canale aveva avuto un'importante crescita ed era il primo anno vero e proprio di partita IVA però diciamo che sotto l'aspetto degli sponsor, delle collaborazioni e di altre entrate, chiamiamole così, esterne a YouTube eravamo in uno stato magari abbastanza iniziale, embrionale con il 2023 diciamo che abbiamo raggiunto un buon punto d'arrivo, che poi in realtà punto d'arrivo non è perché si può sempre migliorare ma diciamo un punto di stabilità importante dove tutte le varie cose che possono generare appunto entrate per chi fa questo tipo di lavoro avevano raggiunto un livello soddisfacente quindi adesso tra poco vi farò un po' vedere come è andata su YouTube, le differenze magari anche rispetto all'anno precedente così capirete anche un po' come sono cambiate alcune tempistiche per chi fa questo lavoro sul fantacalcio prima di continuare però mi raccomando se non l'avete ancora fatto like al video, iscrivetevi qui sotto al canale mi raccomando è sempre gratis ovviamente poi da domani riprenderanno i video dedicati al fantacalcio vi ricordo tra l'altro che questo sarà il terz'ultimo video di questa serie ce ne sarà ancora uno la settimana prossima e poi ci sarà il video finale che uscirà invece più o meno a fine maggio quindi andremo poi a chiudere il cerchio con quel video lì perché uscirà a fine maggio e non prima poi lo capirete ok? detto questo adesso ci andiamo a spostare su YouTube sulla solita pagina delle statistiche e andiamo un po' a vedere quello che è successo nel 2023 ed eccoci qui 2023 un 2023 che per quanto riguarda gli iscritti come vedrete poi tra poco è andato abbastanza bene sono arrivati circa 15-16 mila iscritti nel 2023 quindi il canale è cresciuto come vedrete poi ovviamente la crescita si è registrata soprattutto nel periodo estivo e infatti questo ce lo testimoniano anche i video che sono andati meglio a livello di visualizzazioni perché nei primi 5 posti come vedete dalle 55 mila alle 60 mila visualizzazioni troviamo i 10 nomi nascosti per la tua asta del fantacalcio 200 prezzi al fantacalcio 2023-2024 la strategia del doppio re una strategia di cui abbiamo parlato tanto la scorsa estate 10 nuove certezze al fantacalcio 2023-2024 un video che ho fatto ora qui la data non la vedo del video eccola qui 4 settembre 2023 quindi proprio nei primissimi giorni post e chiusura mercato che era giusto per farvi ricordare il video dove vi andavo a consigliare fortemente l'acquisto di Zirkze del Bologna che infatti trovate anche in copertina e poi il quinto video che è andato meglio la rosa ideale al fantacalcio 2023-2024 dedicata ai fantacalcio a 8, a 10 e a 12 con mod, simulazione, gestione, budget e quant'altro poi dopo i video come vedete ci sono delle live che sono andate molto bene ovviamente quella del fantacalcio insieme agli altri youtuber a sta mantra che per essere comunque dedicata a una nicchia della nicchia perché il mantra sapete che è un qualcosa che non tutti fanno fare più di 50.000 views è sicuramente un risultato importante e poi altri video dedicati al recap totale dell'analisi squadre la previsione dei bonus della classifica mercatore 2023-2024 un altro video dedicato alla rosa ideale al fantacalcio ma questa volta senza mod in un'asta 10 e così via quindi come potete vedere ovviamente i video che sono andati meglio quelli di questa estate la scorsa le live che sono andate meglio quelle della scorsa live e come vedete questo poi si in qualche modo si è andato anche a riflettere sia sul tasso di crescita di iscritti per video sia sul tasso di entrate stimate perché ad esempio il video quello sui 10 nomi nascosti ha portato quasi 400 iscritti gli altri video comunque sono tutti tra i 100 e i 290 300 iscritti anche le entrate stimate come vedete in questo caso hanno generato degli intrati importanti si va dai 112 più o meno ai 200 euro a video ok andando a scendere perché ovviamente non tutti i video vanno così bene e ormai avete capito che molto anche dipende dal periodo come potete vedere ci sono dei video magari 6 dettagli nascosti al fantacalcio 2023-2024 7 attaccanti scommessa per la tua asta del fantacalcio e così via che hanno magari portato la metà delle entrate e allo stesso tempo se da un lato a livello di iscritti sono andate molto bene comunque hanno portato 70-80-100 iscritti magari dal punto di vista delle views anche perché hanno una vita minore una vita ora tra poco parleremo della vita di un video hanno generato poco più di 20.000 views ecco questo è un aspetto importante perché il fantacalcio ha un grosso punto debole rispetto ad altri canali o meglio rispetto ad altri settori è quello della vita media di un video la vita media di un video che cos'è? è sostanzialmente quando tu fai un video ti dovresti chiedere quel video per quanto sarà utile al tuo pubblico capite bene che se io faccio un video al non so 15 di agosto dove vado a consigliare dei nomi ok capite bene che già dopo una settimana quel video potrebbe essere già vecchio perché magari quei nomi sono stati venduti quei nomi hanno cambiato squadra semplicemente magari magari quei nomi non possono essere più acquistati a quel prezzo e quant'altro stesso discorso magari un video fatto a settembre dove si vanno a consigliare giocatori nascosti alle aste ovviamente si sta parlando in relazione a quelle aste quindi esclusivamente alle aste di settembre quel video visto già sei mesi dopo è un video vecchio ma è un video vecchio anche un mese dopo quindi diciamo che la vita media dei video fatti in estate è abbastanza corta può durare una settimana due settimane un mese al massimo i video che hanno una vita mediamente un po' più lunga sono quelli sulle strategie però anche lì un video che magari aveva un senso nell'estate del 2022 o nell'estate del 2023 potrebbe non averlo più nell'estate del 2024 cioè mentre da un lato i consigli in generale dedicati alla preparazione di un'asta o ad alcune strategie durante l'asta possono bene o male valere sempre ci sono delle strategie specifiche o soprattutto delle strategie basate su dei trend specifici che si possono verificare di anno in anno che magari un anno vanno bene l'altro anno no banalmente l'anno prossimo magari la strategia di tenersi soldi a metà agosto perché poi siamo convinti che possa arrivare qualcuno sul mercato potrebbe essere fallimentare l'anno scorso è andata bene perché comunque c'erano delle situazioni che facevano pensare che potesse effettivamente arrivare qualche giocatore altre stati magari questo non avviene ok quindi la vita media di un breve di un video dedicato al fantacalcio è breve e questo per chi fa questo lavoro è comunque un grosso ostacolo perché ci sono altri canali che parlano di tutt'altro che possono aver fatto un video nel 2020 o nel 2021 e visto 3, 4, 5 anni dopo quel video vale ancora per il 100% di ogni singola parola detta nel video e quindi capite bene che anche da un punto di vista della monetizzazione delle views della crescita e quant'altro è molto più facile per quel tipo di canali banalmente ci sono dei canali che magari non fanno video da 6-7 mesi ma che comunque riescono a vivere YouTube perché? perché sono così grandi e hanno dei video così longevi che possono permettersi anche delle pause così lunghe se facesse la stessa cosa un canale dedicato al fantacalcio beh vi posso assicurare che i guadagni sarebbero molto esigui e difficilmente quel canale potrebbe avere una vita lunga questa era una parentesi doverosa che vi spiega però anche un po' la differenza tra i vari canali a seconda dell'argomento trattato detto questo abbiamo visto le views abbiamo visto gli iscritti adesso andiamo a vedere il dato generale delle entrate del 2023 ed eccoci qui questa è la fotografia generale di quello che è stato il 2023 almeno su YouTube come vedete 4 milioni e mezzo di views quindi la cosa utile di YouTube è che ti fa il paragone rispetto al 2022 quindi c'è stata una crescita del 23% in termini di views 2022 2023 a livello di tempo di visualizzazione quindi quante ore di views ci sono state sul canale la crescita è stata ancora più importante perché abbiamo avuto una crescita del 45% 2023 su 2022 a livello di iscritti crescita costante quindi più o meno in linea con quanto avvenuto nel 2022 quindi quasi 16.000 iscritti e a livello di entrate qui non ci dice quanto è di più del 2022 ma se vi ricordate nel 2022 eravamo arrivati intorno ai 19-20.000 nel 2023 siamo arrivati a 28.000 circa ovviamente richiordatevi sempre che questo è un dato lordo quindi poi su questo vanno applicate le tasse e quant'altro però diciamo che a grandi linee più o meno 8.000 euro in più rispetto all'anno precedente che comunque è un qualcosa di importante perché anche se è un dato lordo e magari netto può diventare 6.500 7.000 a grandi linee rispetto ad altri lavori una crescita di 6-7.000 euro da un anno all'altro è comunque un qualcosa di importante ovvio che se ci fossero state solamente queste entrate considerando le tasse considerando l'IMS e quant'altro non si arrivava neanche a 20.000 euro ok e quindi sarebbe stato un dato molto basso per fortuna come vi dicevo prima il 2023 è stato il primo vero anno dove finalmente hanno avuto anche una rilevanza importante le collaborazioni gli sponsor anche il stesso la piattaforma viola che è cresciuta rispetto agli anni precedenti e quindi diciamo che anche grazie a tutte le entrate corollarie chiamiamole così il dato finale di entrata netta è stato un dato che finalmente per il primo anno si poteva accostare a quello che era invece il dato di quando lavoravo in banca e quindi già per essere il secondo anno di questo lavoro di partita IVA è sicuramente a mio parere un dato positivo nel senso che io quando ho deciso appunto di lasciare il lavoro di dedicarmi al cento per cento a questo contavo di arrivare più o meno in pari rispetto a quello che avevo prima dalla banca magari tra il terzo e esagerando il quarto anno esserci arrivati già al secondo anno sicuramente è stato un fattore positivo ovviamente ragazzi e qui anche qua secondo me è interessante fare un'altra un'altra piccola parentesi che però può essere anche molto utile secondo me per tutti quelli che magari un domani vorranno provarci a fare questo è che se da un lato questo lavoro ha dei grandi vantaggi ovviamente ci sono anche dei grandi svantaggi parto dagli svantaggi per poi arrivare ai vantaggi alcuni ne abbiamo già ne abbiamo già parlato nei video scorsi quindi non ve li vado a ripetere diciamo che a livello di la crescita come vi dicevo prima da un anno all'altro crescere di un determinato importo è sicuramente un qualcosa di importante però è anche vero che questa crescita non è garantita da nessuna parte cioè mentre in un lavoro dove magari siete alle dipendenze di qualcuno avete già una crescita bene o male tracciata nel tempo data dall'anzianità data dagli scatti da delle promozioni e quant'altro e quindi a meno di imprevisti casi eccezionali è difficile tornare indietro in questo lavoro può succedere di tutto banalmente da un anno all'altro come vi dicevo l'altra volta un paio di sponsor ti dicono grazie e arrivederci ecco lì che magari hai già delle entrate sensibili che vengono a mancare ma anche su youtube magari il tuo canale può crescere a livello di iscritti perché tornare indietro è abbastanza raro se uno fa video se uno fa live però quello che potrebbe succedere è che magari le entrate o restano uguali o magari tornano indietro perché perché magari le persone ti vedono meno ti vedono per meno tempo magari quell'anno lì il fantacalcio attira meno come argomento banalmente l'anno del covid ragazzi è stato un anno che in un determinato periodo ha avuto una forte crisi sia il mondo del calcio in generale ma soprattutto il mondo del fantacalcio la gente si era un po' così scoraggiata per tanti motivi ovviamente anche più importanti però diciamo che quel fantacalcio lì è stato un fantacalcio molto travagliato e quindi diciamo che il fatto che il 2023 sia andato meglio del 2022 non vuol dire che anche il 2024 andrà meglio del 2023 quindi diciamo che c'è un po' più di incertezza in questo allo stesso tempo e qui mi collego al vantaggio il vantaggio è quello che a differenza di altri lavori a meno di casi eccezionali hai la garanzia che più lavori a livello di ore o meglio più riesci diciamo a rendere migliore il tuo lavoro quindi sia da un punto di vista della quantità ma anche da un punto di vista della qualità nel medio lungo periodo i risultati dovrebbero vedersi e la crescita dovrebbe sempre esserci perché perché comunque hai un bacino di utenti che non dico che sia infinito perché non è che in Italia tutti fanno il fantacalcio e quindi non è che è un bacino di utenza infinito però se pensate a più o meno quante persone fanno il fantacalcio e soprattutto se pensate a quante persone quante nuove generazioni andranno a fare il fantacalcio perché io lo vedo anche i ragazzi comunque giovani 16 17 18 anni iniziano a fare il fantacalcio magari in un modo diverso rispetto a come lo fa una persona di 30 40 anni ma lo fa ecco capite bene che comunque il tasso di crescita può ancora essere importante questo vale per il fantacalcio ma può valere anche per altri settori se voi aprite un canale sui videogiochi magari in questo momento avrete un po' più di concorrenza rispetto al fantacalcio però diciamo che è lecito aspettarsi che i videogiochi come esistevano 10 anni fa e come esistono ora probabilmente anche tra 10 anni tra 20 anni esisteranno ancora e quindi ci saranno sempre più persone a giocarli nuove generazioni e così via discorso diverso magari andare a parlare su youtube di un argomento che non dico che sia morente ma che sicuramente rispetto magari a qualche anno fa è in calo a livello di interesse anche qua facciamo un esempio difficile però ci possiamo provare in questo momento andare ad aprire un canale sul collezionismo ecco mettiamola così sul collezionismo su dei tipi di collezionismo un po' particolari apri un canale sul collezionismo delle schede telefoniche ecco l'avessi fatto 20 anni fa magari sarebbe stato un canale di grande successo ora è veramente raro trovare qualcuno interessato al collezionismo di schede telefoniche discorso diverso apri un canale sul collezionismo di carte quindi trading card game e parli di one piece di pokemon di magic di yugioh eccetera eccetera ecco già quello è una nicchia vero ma è una nicchia che comunque è in grande crescita parlare su un canale di cosplay di collezionismo più moderno diciamo di manga e quant'altro è un altro settore che è in forte crescita basta vedere i dati delle ultime fiere da Luca Comics al Megacon e così via insomma ci sono delle nicchie che sono in crescita altre nicchie che invece sono in calo lì poi sta anche ovviamente a voi così capire un po' quello che vi piace fare banalmente se uno è interessato di musica se a uno piace la musica la musica è uno di quegli argomenti evergreen cambia nel tempo però ha sempre un grande pubblico sicuramente superiore anche a quello che può avere il fantacalcio ok questo era un po' per darvi un quadro generale altro svantaggio qui è abbastanza evidente ma è giusto dirlo è che se stasera a me andasse via la voce per dieci giorni io non posso fare né video né live non c'è la mutua quindi ti capita il dieci agosto in uno dei momenti più importanti dell'anno per quanto riguarda il fantacalcio rischi di essere una settimana senza lavorare che ha delle grandi conseguenze sia a livello economico ma anche soprattutto a livello di crescita perché poi come vi ho detto nei mesi scorsi la crescita che tu fai in estate è importante sì per i guadagni estivi e per la crescita estiva ma poi è una crescita che ti porti dietro a livello sia di scritti che di introiti anche nei mesi successivi e questo può capitare ragazzi l'imprevisto può essere sempre dietro all'angolo per tutti solo che se ti capita in un lavoro dove sei dipendente hai comunque delle garanzie ti capita in un lavoro dove sei indipendente ne hai meno ti capita in un lavoro come questo dove sei solamente tu e la tua voce e la tua faccia le garanzie sono ancora meno quindi qui ovviamente come in ogni cosa ci sono pro e contro ragazzi questa era un po' la situazione attuale del canale vi ho fatto vedere quello che è stato il 2023 abbiamo anche un po' parlato di alcuni aspetti che avevo un po' trascurato nei video scorsi come ad esempio la longevità dei video a seconda dell'argomento trattato e allo stesso tempo anche altri vantaggi e svantaggi di questo tipo di lavoro io vi saluto vi ringrazio la settimana prossima ci sarà almeno per ora l'ultima puntata di questa rubrica dove anziché parlare del passato anziché parlare del presente vi parlerò un po' di qualche sogno nel cassetto che ho per il futuro e poi ci sarà l'ultimo video invece che uscirà a fine campionato che andrà a chiudere il cerchio sia di questa stagione sia di quest'anno sia soprattutto di questa rubrica io vi saluto vi ringrazio mi raccomando se non l'avete ancora fatto like al video iscrivetevi qui sotto al canale seguitemi anche su instagram tiktok e twitch canale il profeta twitch su instagram e tiktok mi trovate come il profeta fantacalcio se vi è piaciuto il video lasciate il like lasciate un commento fatemi sapere la vostra se avete delle domande fatemele pure qui sotto nei commenti anche se non seguite il fantacalcio ma siete esclusivamente interessati a questo discorso di crescita su youtube magari avete un canale e l'avete appena aperto su un altro argomento sono qui a vostra disposizione per quanto riguarda la mia esperienza cercherò di rispondervi nel miglior modo possibile noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima live ciao ciao Grazie a tutti.